Benvenuti a News Mix Up, il nostro canale di notizie in tempo reale. Non dimenticate di lasciare un like, seguirci e attivare la campanellina per non perdervi nessuna notizia fresca. Oggi parleremo di un recente articolo pubblicato da Repubblica che ha destato grande interesse. L'articolo ha messo in evidenza i cinque eredi della famiglia Berlusconi, esaminando sia il loro aspetto pubblico che privato. Tra tutti i membri, un'enfasi particolare è stata posta su Pier Silvio Berlusconi, il CEO di Mediaset. La sua figura non solo ha generato interesse grazie alle analisi di Repubblica, ma anche per la sua dichiarazione che ha profondamente colpito Maria De Filippi, nota personaggio televisivo italiana. Pier Silvio ha scritto una missiva inviata al giornale per smentire alcune affermazioni e offrire invece una rappresentazione intima di sé. Ha precisato di non fare uso di dispositivi per monitorare passi o calorie, contraddicendo quanto riportato da Repubblica che lo aveva descritto come un fanatico degli allenamenti. Ciò che ha colpito ancora di più è stata la confessione di Pier Silvio di non essere ossessionato dall'aspetto fisico, ma di avere una vera e propria dipendenza dall'attività fisica. Ha rivelato che durante gli esercizi sperimenta una sensazione di libertà quasi di valore spirituale. Questa rivelazione inaspettata ha mostrato un lato nuovo e straordinariamente umano di Pier Silvio Berlusconi, tanto che anche Maria De Filippi è stata profondamente scossa. La sua risposta ha contribuito a sfatare alcuni stereotipi sulla personalità di Pier Silvio e sul suo approccio al benessere, presentandolo come una persona alla ricerca di un equilibrio tra la sua salute fisica e il benessere interiore.